Da questo pomeriggio di cielo incerto, prato maculato e cuori intrepidi, i leoni dello stemma della città di Bitonto si chiamano Peppe Chianadia e Claudio Maffei. Sono stati loro due infatti ad azzerare il doppio vantaggio che la Fragolese aveva maturato in mezz'ora di gioco e per poco non si è materializzato il colpo del clamoroso ribaltone. Dunque, per il debutto, mister Valerano Loseto sceglie Figliola fra i pali, Basile perno della difesa, Lucchese facitor di gioco e Muscatiello Vespigno Pendolino. Tridente davanti con Taurino a suggerire per Palazzo e Chiaradia. Il collega Buono in panca al posto di Cioffi sollevato dall'incarico in settimana, sistema provito lo importa, protetto da Manzi e Picascia, Alessio Esposito e Cerone a spingere sulle fasce, Longo e D'Adalta a giostrare Imperiosi in mezzo al servizio di Romeo. Insomma, se non è Davide contro Golia, poco ci manca. Al terzo Taurino intercetta un fraseggio errato degli ospiti, ma viene schermato da Picascia. Minuto 10, larga e l'incornata di Palazzo su azione da corner. Prima della mezza, l'esiziale 1-2 degli ospiti. Al ventesimo, cross lungo sul secondo palo di Esposito e inzuccata vincente di Romeo, 0-1. Poi, otto primi dopo, incontro il piede, tanto celere da ingannare la nostra telecamera, traversone da destra di Cerone, colpo di testa ravvicinato di Longo, 0-2. Per una manciata di minuti sbandano i bitontini paurosamente, finché al trentaduesimo chiaradiano un pennello a un boli dall'incrocio dal limite e accorcia le distanze. Allo scadere, brivido per i padroni di casa con un colpo di testa di Basile, che sfiora il palo della sua stessa porta. Aver segnato, rianima i ragazzini di buona volontà del tecnico barese. Al quarto della ripresa, però, angolo da destra incornata ad un sospiro della riga bianca di Longo, cuoio alto sulla traversa. Due minuti e corner di Chiaradia, sfera che galleggia in area e forte piazzato accanto al montante, rinvia provvidenziale. Ci prova anzi al ventiduesimo, blocca Figliola. Due giri di lancette e Maffei buggera il marcatore, si gira e calcia di sinistro, risolvono i guantoni di Provitolo. Al trentasettesimo e Silletti ad arpionare la sfera in area di destro, fuori di poco. A quattro minuti dallo scadere, mezza girata robusta nel cuore dei 16 metri di Maffei, che insacca il tanto sospirato quanto meritato pareggio. In pieno recupero, addirittura l'occasione ghiotta per la vittoria. Rasoterra di Lucchesi in area, penalti in movimento per Figliolia. L'esterno ospite si accartoccia e neutralizza. Campani un poco delusi, pugliesi stanchi ma festanti. Questa è la scena finale che suggella l'emozionante incontro.